e here we are dottore professore non so mai come chiamarti carlo carlo come stai carlo carlo è la cosa migliore come stai bene bene benissimo un po travolto di cose da fare come sempre ma sto benissimo l'ultima volta ci siamo sentiti forse era un paio d'anni fa non so forse eravamo in pieno covid non mi ricordo quando ci siamo sentiti l'ultima volta parecchio tempo fa non ricordo forse era prima del covid no due o tre anni fa era per cui tu eri sempre sui due mille cose mi ricordo solo che ho finito la chiacchierata con te e il mio cervello aveva questa sorta di implosione interna no come di scaricare un po di dati ma perché io faccio sempre troppe cose questo è il problema della mia vita mi occupo di fisica mi occupo di filosofia mi occupo di storia entro con i dibattiti politici discuto mi occupo della guerra adesso ho fatto anche una canzone rock ma quella non l'ho fatta io questa questa mi mancava la canzone rock ma tipo l'escrittatura è fatta scrivere acciaggi pt o questi nuovi sistemi di ai che dici scrive la canzone rock scrive tutto no in realtà non è una cosa che ho fatto è un regalo che mi sono trovato io sono stonato con una campana incapace di incapace di suonare ma un gruppo rock fantastico che amo senza che io lo sapessi e bella donna non so se li conosci sono buavissimi italiani hanno registrato un pezzo hanno fatto un pezzo bellissimo che si chiama nothing shines unless it burns niente brilla meno che non bruci in cui tra l'altro c'è una una nelle c'è un verso che parla dei buchi bianchi che il nuovo è il mio ultimo libro e hanno usato la mia voce hanno preso dei pezzi campionate pezza mia voce è usato dentro dentro il pezzo e all'inizio non avevano coraggio di chiedermi permesso e poi invece per una strana cosa di una conoscenza comune insomma un amico mi ha detto senti ma ti dispiacerebbe se loro facessero questa cosa io ho detto scherzi mi dispiacerebbe per questo c'è una fantastica canzone rock che ti consiglio in cui c'è carlo rovelli fra i ma è incredibile peraltro visto adesso con tutti questi sistemi di ai che fanno voice cloning e poi poi come dire non fanno dire quello che vuoi e poi ti fanno dire quello che vuoi ho visto una canzone di eminem dove però lui non è che la cantata lui non lo so come lo vedi questo scenario dal tuo diciamo punto di vista dove ai questi sistemi così in veloce avanzamento ecco ma io penso che sono siano meno drammatici di quello che ci sembrano poi ci abituiamo secondo me l'arrivo del che sono del telefono della stampa ha fatto più ha cambiato di più che non che non queste cose qua ovviamente ci dobbiamo abituare la tecnologia nuova che arriva imparare 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 cose nuove per esempio imparare che se vediamo la faccia di uno che dice delle cose non è detto che sia lui potrebbe essere una cosa falsa costruita ma secondo me come dire viviamo nell'immagine che siamo travolti da un aumento di tecnologia il pazzesco ma mia nonna che della sua vita ha visto comparire gli automobili la televisione e gli aeroplani ha visto più più cambiamenti di noi giusto no no questo è vero una cosa che mi interessa in particolarmente al momento è l'uso della voce in ai proprio per leggere gli audiolibri perché avevo letto l'audiolibro di un mio libro tempo fa 250 pagine di dolore non so se hai mai letto i tuoi audiolibri una fatica a leggere il libro proprio primo perché mi odio leggendo mi penso ma chi è questo no quel questa è la mia reazione principale e poi una fatica è leggere veramente difficile leggere bene poi capisci grandi doppi attori perché sono veramente bravi cioè è difficile leggere e poi lunga lunga e invece lì tac faccio con la voce schisci un bottone questo legge gli audiolibri questo mi sembra come è venuta è venuta bene malissimo no non ho ancora fatto io quello con la mia voce vera è venuto malissimo no ma quella automatica quello che legge di sé allora quello automatico non l'ho ancora approvato su di me perché in genere ho visto al momento funziona mi sembra molto bene sulla lingua inglese italiano ancora alcuni siti mi sembra che sia uno si chiama i ressemble ce ne sono vari che lo fanno però ancora è da testare però la direzione sarà quella lì non lo so tu hai mai letto i tuoi libri io ho letto i miei libri ne ho letto uno due anzi uno inglese non italiano per fare un audiolibro e come dici tu ho sofferto il penne dell'inferno anche perché per colpa mia ho detto no ma io poco tempo facciamolo tutto di fila per cui due giorni chiusi dentro uno studio di registrazione alla fine volevo farmi di eroina non ne potevo più infernale e poi il risultato come dici tu è carino chi ascolta avere la voce dell'autore non è non è perché è come che ti parlassi direttamente e quindi sono contento di averlo fatto così però un altro dei miei libri è stato letto da benedict cumberbatch e quando ho sentito la sua voce mi sono vergognato di cose facevo io vendamente perché c'è un'altra cosa lui è per fare quella cosa lì e come lo sa fare lui e tutt'altro il risultato è tutt'altro incredibile senti ma come fai a fare più cose insieme perché io ne faccio una e male e tu invece riesce a farne tante bene nelle tue varie passioni interessi hai come dire delle categorie mentali dove dice ok filosofia metto tutto qua e quando passo da un all'altra riesco a dimenticare il resto e come funziona non lo so non lo so se le faccio tutte bene forse qualcuno più bene qualcuno più male io ho dal mia credo che forse l'unica come dire l'unica virtù che ho e ho una grande capacità di concentrazione quando faccio una cosa riesco a ovunque in aereo nei momenti liberi quindi questo mi permette di fare di fare molte cose di scrivere di di a me è capitato di andare un certo rock che non mi piaceva e con un frastrone infernale tirare fuori un taccuino e fare dei conti di fisica tranquillo come se il resto del mondo fosse fosse sparita con questo quindi ho questa capacità di concentrarmi però non è che cerco di separare le cose anzi direi che un po al contrario cerco sempre mettere insieme le cose quando leggo un testo di filosofia mi chiedo ma è che questo può essere utile per la mia per la fisica quando faccio un conto di fisica mi chiedo ma quali sono le cosa cosa coinvolge questo sulla mia visione del mondo cerco mi si lega tutto un po e quando faccio delle cose molto disgiunte fra di loro per esempio quando mi occupo di politica e poi e poi mi occupo di buchi neri e buchi bianchi mi sento un po non lo faccio volentieri mi vorrei poterli connettere ma ci sono cose che non si connettono la politica è un bel buco nero da un certo punto di vista si connettono certo si connettono metaforicamente la politica è un buco nero orrendo dove ci facciamo del male tutti i giorni è interessante questa cosa delle connessioni ci ragionavo proprio ieri perché quest'anno ho deciso ho fatto 50 anni l'anno scorso e quest'anno ho deciso che ogni settimana imparo qualche cosa di nuovo ok non 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 provo a diventare bravo in qualcosa perché ci vuole tutta la vita diventare bravo in qualunque cosa ma imparo o cerco di migliorare qualcosa e può essere una cosa tipo il cubo di rubik che non sono ne ero mai riuscito a farlo gli scacchi ieri ho fatto palleggi con una palla da calcio ok sai quando dici metto a palleggiare io sono sempre stato negato a calcio capi in pong quindi sono sempre stato negato e sono andato sul lungo di mare marie brighton dopo quattro giorni di allenamenti a vedere quanti ne facevo e messi 300 di fila senza mai ne ho fatto 97 che alla fine non ci credevo non ci posso credere negato a livello che quando ho preso la palla per fare primo palleggio sono andato in giardino ho fatto rimbalzare la palla ho dato il primo calcio e la palla è andata dal vicino cioè questo è il mio livello di pre per cui è incredibile come con poco tempo dedicato comunque uno già può essere meglio della stragrande maggioranza delle persone che magari il cubo di rubik non lo sanno fare perché non hanno dedicato dieci ore di tempo a capire me però la cosa su cui ragionavo caro era anche sai che prima di morire socrate il giorno prima di morire era nella prigione sapeva che il giorno dopo aveva dovuto bere la cicuta quando sono arrivati i suoi amici l'hanno trovato che stava cercando di imparare a suonare flauto wow e gli hanno detto ma tu non hai mai suonato il flauto cosa fai e voglio imparare e gli ha detto ma muori domani e vabbè io voglio imparare oggi però la cosa che dice prima tu del fatto di trovare dei collegamenti è che mi rendo conto ad esempio scacchi mi sono impallinato con gli scacchi ho provato a migliorare a scacchi io sono pessimo però quando adesso affronto un problema magari di una mia start up la mia il modo di ragionare è diverso cioè ho un approccio che è diverso anche solamente rispetto alle possibilità perché dico ma ok prima se mi ci metto posso farlo oppure valuto diversamente e quindi mi piace molto questa questa serie di collegamenti che arrivano da attività che sembrano totalmente diverse non lo so ecco e quindi mi ha preso questa cosa no io penso che tutto quello che facciamo in realtà in realtà ci ci arricchisce anche anche se non lo vediamo perché poi nostro cervello in realtà funziona in maniera analogica sempre cioè usa quello che sappiamo in un campo anche delle volte senza che noi lo sappiamo per fare delle cose in un altro campo noi ci ispiriamo continuamente dal nostro sapere così come ci ispiriamo continuamente l'un l'altro no com'è che impariamo parlando conversando fra noi quei libri con con le esperienze della vita con le altre culture cioè sempre questo scambio che che ci arricchisce così dentro la nostra testa io penso se abbiamo cose diverse sono sempre in dialogo fra di loro e quindi ci arricchiscono è così ma invece questi buchi bianchi mi è preso in preparato pensavo fosse la cosa della relatività solita poi dopo mi spieghi la teoria della reggita non ho capito che sono veramente a livello indecente però i buchi bianchi mi ha preso ma colto in preparato è come sa chi bianchi a questa mi suona nuova non mi è chiaro sia una cosa semplice in realtà ed è questa tu hai visto le le immagini dei buchi neri nel sulle prime pagine giornali non si vede allo scorso degli avengers dove ci sono i buchi neri sia le pagine dei giornali con la foto buchi neri vediamo la materia che quella quella cosa rossa che quell'anello rosso che vediamo nelle foto è quello che sta intorno al buco nero è tutta la materia che vortica caldissime cade dentro no cali vediamo tutto che cade dentro il buco nero si sì 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 e la stella stessa è il buco nero stesso è fatto da una stella che cascata dentro sto buco sono questa questa cosa e direi qualunque bambino può fare la domanda ovvia e cioè va bene tutta sta materia doveva per finire cioè cade poi che le succede e questa è la domanda che ha guidato la mia ricerca negli ultimi negli ultimi tre quattro anni o quattro cinque anni esattamente questa cosa qua perché teoria di fisica su cui ho lavorato per tutta la mia vita dovrebbero aiutarci a risolvere questo tipo di domanda è una domanda simile molto collegata è questa i buchi neri sono sono là nel cielo durano tantissimo tempo però sappiamo pensiamo che col tempo diventino sempre più piccole si dice evaporano buco nero lasciato la isolato si consuma diventa piccolo piccolo e poi quando è piccolissimo cosa succede e non lo sa nessuno ok queste domande sono collegate la risposta a entrambe le domande che che emersa dalla scienza che faccio è che se tu entri dentro scendi fino in fondo c'è come una specie di imbuto che si stringe come un lungo tubo che diventa sempre più stretto tu sei schiacciato in questa cosa qua e quando è molto piccolo attraversi una zona quantistica continua l'evoluzione in qualche maniera e ti trovi in una specie di rimbalzo cioè questa cosa si riallarga si riallarga e si riaccorcia tutto quello che era cascato dentro e esce e questo specie di buco nero al contrario invece che tutto entra tutto esce è un buco bianco quelli sono i buchi bianchi e visto da fuori se tu sei fuori vedi la materia che cade vedi questo buco che diventa via più piccolo e poi pian pianino vedi che comincia a uscire le cose invece che entrare quindi è diventato un buco bianco da cui le cose le cose cominciano cominciano uscire e e tu mai detto prima c'è la realità generale la relatività una lezione di relatività la reazione di relatività più semplice di base è questa che il tempo non passa la stessa velocità per tutti cioè il tempo per me e per te sta passando a velocità leggermente diverse non ce ne accorgiamo perché minima lo scarto e più vai vicino a una massa più giù più il tempo passa lento in montagna il tempo passa un po più veloce che che in pianura perché quando vai in montagna poi torni giù tu hai vissuto un po di più di che rimasto giù nel buco nero il tempo passa lento 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 lentissimo 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 allora cosa succede che quando tu entri nel buco nero arrivi fino in fondo in poco tempo rimbalzi torni fuori esci dal buco bianco per te è passato poco tempo ma io che sono fuori ti vedo il tempo è molto 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 dilatato perché ti vedo come rallentatore per cui ti vedo entrare uscire dopo un miliardo di anni per te è passato pochi secondi per me un miliardo di anni e questo quindi buco nero è se questa storia è vera uno schiacciarsi di cose che poi rimbalza esce dal buco bianco visto da fuori è rallentatore ok ma questa carlo è diciamo una teoria basata su calcoli matematici osservazioni come si arriva a questa teoria e dunque non sappiamo se una storia vera questa che ti ho appena raccontato potrebbe io ci spero e penso sia plausibile ma non lo sappiamo e se ci pensi siamo un po nella situazione uguale in cui si era con i buchi neri quando io ero studente allora c'erano delle delle equazioni scritte da einstein che sembravano funzionare in certi campi e sembrava che prevedessero l'esistenza di buchi neri ma nessuno ne aveva ancora visti per cui finché non li hai visti possibile plausibile ma per essere convinti poi nei decenni successivi i buchi neri si sono visti sempre di più sono accumulate osservazioni che non si possono spiegare se non con esattamente con questa con questa teoria di buchi neri e per i buchi bianchi è la stessa cosa cioè non ne abbiamo visti non siamo sicuri e ci sono delle delle teorie come nascono le teorie nascono il tentativo di mettere di rendere in maniera plausibile tutto quello che sappiamo fin qua diciamo di costruire uno schema coerente matematico ma anche di pensiero per in cui quello che sappiamo sulla natura stia bene insieme io ho lavorato per anni la teoria gravità quantistica in cui si combinano le risultati di einstein la meccanica quantistica e cercavamo poi un modo di applicare questa teoria cioè ok abbiamo questa teoria adesso vediamo se c'è una qualcosa del mondo che possiamo spiegare e questa domanda cosa succede dentro il buchi neri è proprio la domanda tipica che una teoria come quella su cui ho lavorato per tanti anni poteva spiegare per cui l'applicazione della teoria da questa previsione adesso bisogna controllare fare i conti e poi soprattutto andare a cercare delle conferme e io spero poi morire che qualche conferma tornerà che potremmo dire come dicevamo prima chissà se ci sono i buchi neri adesso li vediamo potremmo dire ecco abbiamo dell'evidenza che ci sono i buchi bianchi le conferme le trovi tramite diciamo delle immagini tramite delle osservazioni ci sono varie possibilità per esempio l'ultimo lavoro che ho finito qualche settimana fa due studiamo come esce dai buchi bianchi le cose quindi il tipo di radiazione che deve uscire e quindi con la speranza che poi fra le tante cose che osservano gli astronomi quando guardano il cielo perché dal cielo ci arriva di tutto molte cose che capiamo e molte cose che non capiamo e quindi magari fra le tante cose che si vedono nel cielo si può riconoscere a ecco quella esattamente la cosa prevista nella teoria che esce dai buchi bianchi un'altra possibilità anche questa è un'idea non sappiamo se giusto è che le abbiamo già visti e che è quel una parte almeno di quella che chiamiamo materia oscura e materia oscura è una una strana cosa che c'è nell'universo molto molta 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 più che la materia normale che sappiamo che c'è perché vediamo i suoi effetti sulla gravità vediamo che le cose cascano verso la materia oscura e però non fa luce e non la non la si vede e potrebbe essere che magari una parte di questa materia oscura siano questi tanti piccoli buchi bianchi che volano nel cielo non abbiamo ancora visto ma quale sarebbe scusa vado nel pratico diciamo il vantaggio di questa teoria nel senso qual è la conseguenza di questa teoria nel momento in cui è confermata ciò che abbiamo evidenze effettivamente ci sono questi buchi bianchi e quindi qual è l'impatto quali quali sono le conseguenze principali che che deriverebbero dalla reale esistenza di questi buchi bianchi una che io sarei molto contento sembra già fondamentale che io mi accontenterei già di questo e non so nella idea e non mi viene in mente nulla di concreto diciamo per cui come dire un po mi viene da dire noi vogliamo capire come funziona il mondo poi perché perché bello stesso motivo per cui vogliamo sentire la musica o camminare in montagna diciamo perché cosa c'è di più bello capire quello che ancora non capiamo poi non lo so perché la scienza è strana e buffa ci sorprende sempre no le sai che fara dai quando era nel suo laboratorio che studiava le cose elettriche magnetiche quello che ha capito i campi elettrici e magnetici tutte tutte le cose elettriche magnetiche che usiamo vengono dagli sperimentini di fara dai nel suo laboratorio che lui conduceva perché era curioso di sapere come fosse che c'erano queste forze ci fu una famosa visita di un ministro inglese perché un po di soldi arrivavano dal governo che gli disse ma il signor fara davvero non è neanche professore signor fara di cosa serve tutta questa roba qua poi cosa ci servirà e lui rispose non è una minima idea ma sono sicuro che prima o poi ci farete delle tasse su queste cose infatti paghiamo le tasse sull'energia elettrica però mi immagino che insomma aiuterà comunque a comprendere meglio come funziona l'universo l'evoluzione insomma tutto tutto questo insomma qualche cosa succederà qualche cosa succederà io quando studiato da ragazzo le teorie di Einstein a scuola mi piacevano proprio perché non servivano niente non servivano per fare delle cose soprattutto non servivano per fare armi perché come dire i fisici hanno sulla coscienza la bomba atomica purtroppo e io ho pensato ecco le le teorie di Einstein la realtà generale lo spazio che si incurva il tempo che si dilata questo non servirà mai per fare armi e molti anni dopo ho scoperto che le prime armi super intelligenti col gps dentro usavano la realtà generale perché del gps si usa si usa quindi alla fine è stata usata per fare armi per ammazzare meglio le persone prima hai detto che i buchi neri sono stati osservati perché diciamo dalle conseguenze che se non ci fossero i buchi neri non potrebbe verificarsi un qualcosa adesso tu l'hai detta molto meglio però insomma in sostanza e mi chiedevo quali fossero come come sono stati dedotti a dire questo senso buco nero non avverrebbe è stata una combinazione di cose è stata una cosa molto lenta in realtà una lunga lista di cose sempre più alla fine anche chi si opponeva più ai buchi neri ha detto ok avete ragione e la prima addirittura è venuta prima che si capisse che fosse un buco nero perché quando negli anni 30 per la prima volta le antenne qualcuno ha pensato di fare un'antenna grande che ricevesse da tutte le direzioni e si è visto che c'è un segnale che viene un segnale radio che viene dal cielo che fa un bip ogni giorno e che non si capiva cosa cosa fosse e ci si è accorti che viene da un dal centro della galassia dalla direzione di sagittario dove c'è il centro della galassia e è stato stato uno shock allora negli anni 30 è finito sui giornali se ne parlato e per anni non si è saputo cos'è oggi si sa cos'è il grande buco nero nel centro della galassia che fa esattamente quella cosa lì però prima di riconoscere che quello fosse un segnale buco nero sono passati 50 anni è notevole questa 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 cosa quindi quello non ha riconosciuto nessuno poi è successo che la prima cosa che si è vista e scusa carlo e ma questo questo ding che arriva gente come è generato allora il bib è solo è un flusso continuo in realtà è un segnale solo che quando quest'antenna girava con la terra diciamo quando era orientata giusta arrivava il segnale quindi ogni tanto c'è questo questo questa cosa qua quando rientra da giusto il segnale è adesso lo sappiamo adesso che abbiamo le foto proprio di quel buco nero lì perché abbiamo fatto i due buchi neri uno proprio quello nel centro della nostra galassia che è un mostro grande come il sistema solare cosa enorme con intorno un questo inferno di materia che gira che attirata che orbita e poi pian pianino si scalda tantissimo e spirala dentro e questa materia caldissima è un plasma incandescente che mette radio e mette luce mette onde radio e mette tantissimo talmente tanto che nonostante che stia la centro della galassia basta un primo che costruisce un'antenna sulla terra la punta la abbastanza grande riceve il segnale quindi sono le onde radio della materia che spirala intorno al buco nero poi è successo negli anni settanta che la prima volta si sono cominciate a vedere delle delle stelle spesso le stelle sono a coppie tantissime stelle sono a coppie che girano un intorno all'altra molte sole noi da solo ma tante stelle sono sono due che orbitano un intorno all'altra e qualcuno ha notato che ci sono delle stelle che chiaramente orbitano intorno all'altra perché si vede che fanno così ma non c'è l'altra come se ci fosse un'altra cosa scura è divorziata diciamo sì però continua continua girare continua girare si vede che un po verso noi un po si allontana per cui gira intorno a cosa e potrebbe essere un piccolo buco nero che è molto pesante un piccolo buco nero che fa da controbilancio le stelle e quelle sono state le prime le prime e poi pian pianino sempre di più si sono individuati questi questi oggetti che potevano essere i buchi neri e si è visto che tutto le radiazioni che ci arrivavano corrispondono esattamente a della materia che spirala e va intorno poi finalmente ci sono state le onde gravitazionali quello è stato il colpo determinante perché i due due buchi neri possono cascare uno dentro l'altro girare intorno all'altro poi e poi unificarsi e quando lo fanno fanno un botto gigantesco gigantesco e producono delle onde non delle onde elettromagnetiche onde gravitazionali che hanno una forma molto particolare perché primo oscillano e poi sempre più veloce sempre veloce e poi sparisce quindi come un'onda che diventa sempre più più alta più e poi sparisce nel suono sarebbe un solo così e queste erano previste dalla teoria dei buchi neri e quando sono partiti gli esperimenti di onde gravitazionali ci hanno messo molto hanno visto esattamente questo questo segnale qua che era previsto della teoria e questo a quel punto sono convinti tutti e poi come se non bastasse hanno fatto una foto hanno fatto proprio la foto della della materia che gli gira intorno e non abbiamo altra spiega di tutti questi fenomeni diciamo sono tutti spiegati benissimo la teoria dei buchi neri non abbiamo un altro modo di spiegarli ok mi hai anche illuminato carlo sul fatto che esiste un centro della galassia che nella mia testa ignorante invece era la galassia non c'era mica un centro è ovunque nessun posto non lo so e no la galassia è un grosso disco enorme disco che sta ruotando lentamente e fatto di 100 miliardi di stelle come sole più o meno la grande maggioranza dei pianeti intorno che girano e noi siamo abbastanza la periferia noi siamo non siamo importanti siamo al tibuttino terzo diciamo della galassia e qui diciamo rispettare il tibuttino terzo noi siamo tutta quanta la terra e più si va in centro più c'è densità di stelle nel centro c'è di tutto cioè nel centro c'è molta grandi nubi di polvere c'è molta struttura e nel centro centro c'è questo buco nero mostruoso a una massa che 4 milioni di volte il sole e dove continua a cascare roba dentro è il centro della galassia ok e se tu guardi non so se tu conosci un po le costellazioni nel cielo sagittario se lo riconosci più o meno lì c'è il centro della galassia nelle notti d'estate molto chiare si vede la via latea la via latea e la galassia vista vista di lungo quello che mi sfugge carlo è cioè perché quello è il centro perché si è si è stabilito che quello è il centro della galassia perché attira a sé diciamo a questo buco nero che attira dentro di sé tutto no perché abbiamo una galassia è questa grande isola di stelle no 100 miliardi di stelle ma che non è l'unica nel nel universo è una delle tante a sua volta è una e ci sono e ci sono 100 miliardi forse più forse milioni di galassie nel nel nell'universo la più vicina è quella di andromeda quindi immaginare questi 100 miliardi stelle che fanno una nuvola di stelle poi un immenso spazio vuoto intergalattico enorme e poi altre galassie e queste altre galassie poi ci siamo accorti che sono come la nostra diciamo sono sono molto simili e andromeda in particolare che la più vicina la domina si vede addirittura ad occhio nudo nelle nelle bisogna avere una buona vista bisogna essere meglio in montagna una giornata molto limpida secca e molto scura senza luna e andromeda si vede una non è una stella è un nuvoletta bianca piccolina piccolina nel cielo con un canocchia con un binocolo si vede si da svegli a cercare e quella è una è una galassia come la nostra sono 100 miliardi di stelle anche la più o meno la stessa taglia e si vede come fatta e la nostra è fatta proprio un disco quindi un disco che ruota con un disco che ruota un centro non è un centro nel senso più semplice diciamo devo aggiungere alle cose che devo imparare settimanalmente anche un po di astronomia galattica questa forse magari non farebbe male aggiungerla stamattina ho portato carlo mio figlio a scuola di 13 anni uno dei miei figli e due suoi amici e ho detto vabbè sai per i 13 anni che non si è lì un po in silenzio però per un po il silenzio ho detto a guardate sapete la risposta a questo test e gli ho fatto uno di quei test stupidi che si fanno online no un po di di logica gli ho detto allora se un mattone pesa un chilo più mezzo mattone quanto peso mattone ok e ho fatto questa domanda e la cosa che mi ha molto colpito è che vabbè mio figlio la sapeva già i suoi due amici uno ha cominciato a calcolare e ha cominciato e parlava diceva x uguale così no è passato subito ha switchato su modalità equazione e l'altro invece a buon senso ragionavo ok quello a buon senso ha ciccato clamorosamente e quello che si è messo diciamo a fare il calcolo subito ha detto il risultato giusto tra parentesi è due chili lo dico non per te ma lo dico per chi per chi è in ascolto io ho ovviamente ciccato come ti puoi immaginare quando hanno fatto questo testo cominciato a dire ma più o meno mi sembra che tutte queste cose qua e la cosa curiosa è che mio figlio ha detto questo questo ragazzo che ci ha azzeccato ha detto ma io in realtà avevo indovinato senza non c'è neanche bisogno di fare matematica non semplicemente a logica a buon senso e questo gli ha risposto il buon senso in questi casi a usare la matematica no questa è stata la risposta e quindi ero testimone di questa interazione mi domando allora quando tu non è la bella bella discussione molto bella è curiosa no e poi vedi il carattere delle persone chi ha un approccio più appunto logico più matematico più istintivo no tutte queste cose quale vedevo questo micro universo comunque è la cosa interromperti vuoi che ti dica chi secondo me di loro è il più scienziato vai tutte e due questa era perché la mia domanda è questa cioè che cosa ti serve per per riuscire a risolvere a risolvere o a sviluppare queste teorie cioè quanto devi essere attinente al calcolo e tutto e quanto invece c'è quel momento così un po diverso tutte e due serve perché guarda diciamo su due cose prima di tutto la gente che fa scienza è diversissima gli uni dagli altri ci sono quelli bravissimi a fare i conti e quelli che immediatamente vedono le equazioni nella loro testa quelli che sono lenti a fare i conti quelli che hanno più intuizione quelli che hanno meno intuizione quelli che hanno una visione geometrica delle cose quelle che invece vedono solo forme cioè e ognuno fa il suo ruolo come dire ognuno ha le sue le sue le sue capacità anche grandi scienziati si sono molto diversi proprio 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 in questo ma anche proprio per fare scienza e come dire se non se alla fine non si fanno i calcoli precisi non sei mai sicuro quindi rischi di dire delle stupidaggine però d'altra parte fai man che forse è stato più grande scienziato della seconda metà del ventesimo secolo diceva io non inizio mai a fare un calcolo se non so già qual è il risultato e lo capisco molto bene perché fare i calcoli di per sé può essere fuorviante bisogna avere l'intuizione di cosa di cosa succede no se se tu dici un mattone più mezzo mattone fa due chili ok noi possiamo scrivere x più mezzo quello che vuoi ma se tu non vedi chiaramente pensa a un mattone pensa mezzo mattone mezzo mattone più un chilo bingo quando l'hai visto con i tuoi occhi chiaramente quello è solido è molto solito quindi da un lato l'intuizione ti permette di vedere le cose e ti permette delle cose senza calcoli prima dall'altro poi calcoli servono perché ciò nonostante ci si sbaglia l'intuizione sbaglia quindi insomma la scienza un po intuizione un po logica un po questo un po quello la scienza è come tutte le attività umane si fa a spanne peraltro fai ma è grande richard avevo letto due libri da ragazzino uno era stai scherzando mister fai man e l'altro è che ti importa quello che dice la gente ne verrà molto piaciuto perché aveva questo insomma tono comprensibile scherzoso raggio ispirazionale i buchi bianchi il tuo nuovo libro diciamo un libro per tutti o è un libro più per comunque chi già ne sa di questi argomenti e più diciamo tecnico è il mio libro più per tutti quanti libri che ho scritto perché ho scritto le sette brevi lezioni che era un libro destinato a tutti e che tanti hanno letto e poi però dopo le sette brevi lezioni i libri successivi che ho scritto l'ordine del tempo el goland sono molto più densi più densi più più per un pubblico più ristretto come dire per un pubblico che che vuole fare più uno sforzo per andare a vedere le stranezze della della però dopo aver scritto questi due libri un po più pesanti mi sono anche detto basta di cose pesanti voglio tornare un po uno scrittura leggera poi lo scritto anche più personale buchi bianchi è un libro che si legge in mezz'ora e si legge rapidamente un po come le sette lezioni ed è attenzione perché non è un vero libro di divulgazione no perché se fosse un libro di divulgazione dovrei raccontare cose che sappiamo di sicuro buchi bianchi non sappiamo se ci sono è un è un racconto anche personale di che cos'è fare scienza cosa vuol dire cercare di vedere là dove non vediamo ancora cercare di immaginare ed è come posso dire un libro di viaggio è un diario di viaggio o un travelogue come dicono in inglese perché è il racconto di questa avventura di ricerca che aperta non è ancora finita ma è anche scritto come il racconto del viaggio mentale di entrare dentro il buco nero entrare l'orizzonte degli eventi andare giù vedere cosa c'è dentro descrivo cosa succede all'orizzonte queste distorsioni dello spazio del tempo la forma dello spazio interna puoi arrivare in fondo attraversare la passaggio dal nero al bianco e poi che cos'è dall'altra parte e l'uscita quindi lungo lungo il libricino si segue questo percorso che è il percorso mio di ricerca mi sono chiesto cosa succede qui cosa succede qui cosa succede qui fino a un certo punto servono le questioni di einstein ci dicono cosa succede poi non poi serve la gravità quantistica che è meno molto meno confermata dall'esperienza e quindi più incerta e poi 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 si esce si torna si torna a rivedere le stelle super super interessante come sempre carlo hai detto percorso di ricerca mi dici in una settimana quando uno dice ok ma caro rovelli poi che faccio quando devi fare queste ricerche che cosa fai ti incontri con i tuoi collaboratori c'hai un tavolo e ti metti lì e dice ragazzi ragioniamo pensiamo meglio qual è la teoria cioè come funziona la ricerca cioè da o praticamente nel momento in cui io ti seguissi per un mese ti seguo per un mese sto lì come la stella che gira io sono quello la stella che non si vede sono fermo no però ti seguo e che cosa vedo cioè quali sono le attività principali che che avvengono per poi arrivare a pubblicare ad esempio lavoro allora sono due direi una è un po quella che dicevi tu cioè mi incontro con delle altre persone per esempio con i miei studenti con i miei collaboratori e incontrarsi può voler dire proprio allora ci vediamo i dieci ci partono tardi all'università ci si mette davanti una lavagna poi vanno avanti fino alle due di notte magari a discutere e ci si mette davanti una lavagna e caffè e viene molto da solo perché poi diciamo quando io vado al dipartimento passano studente già aspetta ti devo chiedere ci si mette lì sì e cosa si fa sì sì generalmente ci si scontra contro cose che non si riesce a fare ok come si fa questo conto come si capisce cosa succede qui se questa cosa succede perché non naturalmente c'è qualcosa alta no non è vero perché allora sono dei disegni alla lavagna scrivo delle equazioni ci si pensa ci si ripensa si dice ok adesso vado a farmi il conto per conto mio poi torno si dice ma guarda che quello sbagliato e così via quindi questa è tutta una parte di collaborazione molto bella secondo me perché è un piacere anche scambiarsi le cose con gli altri spessissimo ci si sbaglia quindi bisogna tutti essere molto consapevoli e lo si è molte volte dico ma no è proprio così guardate adesso vi spiego poi arrivo in fondo e qualcuno dicono mi sono sbagliato non era così e questa è una parte l'altra parte è da solo da solo io lavoro molto meglio a casa che all'università l'università sempre una distrazione di qualcuno che passa i colleghi gli studenti la gente invece a casa o leggo degli articoli o scrivo oppure semplicemente c'è un quadernino il quadernino metto lì con la matita fare fare i conticini guardarmi la testa e dire ma no così non funziona ricomincio da capo e passo molte ore in questa maniera oppure al momento in cui si comincia a scrivere io scrivo articoli quando scrivo un articolo comincio presto cioè lo scrivo poi lo correggo poi dicono sbagliato butto via un pezzolo e col computerino battere le equazioni il testo e dire ma sarà giusto così non sarà giusto così farlo vedere gli altri colleghi quando io lavoro a casa non lavoro seduto lavoro sdraiato al sofà i piedi in alto ok completamente sdraiato si perché io trovo che stare seduto in una posizione molto poco naturale e non si sta bene seduti non siamo la natura non ci ha evoluto il buon dio non ci ha creato per stare seduti per stare in piedi correre oppure per sdraiati comodamente per cui mi metto su un bellissimo sofà rosso grandissimo rotondo e mi sdraio con i piedi un po in alto spesso il computer il quadernino appoggiato sulla pancia e lavoro e ogni ogni spesso mi alzo perché lo muovesse e faccio faccio qualcosa sposto qualcosa apre la finestra da fuori torno dietro in canada c'ho un cammino quindi inverno facendo il cammino e mi alzo mettere la legna a ti succede come a me che quando vado sotto la doccia mi si illumina il cervello è l'unico momento in cui c'ho qualche idea e il resto zero calma piatta ma se vado sotto la doccia infatti a volte sto non so un'ora sotto la doccia sono lì lo so che non è buono per l'ambiente per sto lì e le idee mi vengono fuori così non so perché la doccia è un straordinario momento no perché tipo tutti libera favoloso le docce sono invenzione meravigliosa i romani hanno inventato i bagni dove anche loro e per me dei grandi momenti di pensieri sono quando cammino per andare da un posto all'altro e allora oppure anche quando guido quando guado un pezzo di strada in cui sono da solo in macchina devo guidare quando sono a marsiglia vado da casa all'università per esempio c'ho quindicina di chilometri macchina belle mezza natura si passa un piccolo passo si scende dall'altra parte e molte idee mi sono venute mi sono venute lì perché magari monto in macchina e dico ma quella storia è la che non torna ma com'è perché perché non ci riusciamo e poi le rigiro una parte del giro dall'altra e poi c'è quella volta di aspetta ma si può fare così non ci avevo pensato e anche camminando camminando un buon momento perché è dire nella vita quotidiana siamo costantemente distratti da da cose no adesso poi con i telefoni schermi è un inferno è difficilissimo averci stare con se stessi invece bisogna far spostare con se stessi per farsi venire le idee io riesco ogni tanto andare a passeggiare nel bosco dietro casa dove sto adesso in canada quello un buon monto per stare con se stessi giochi a scacchi tu carlo ma ho giocato da ragazzo mi piaceva mi piaceva molto mai mai in maniera né professionale né di alto livello poi sempre meno perché c'era altre cose da fare e ero bravino anche la quantità di quanto ho giocato ovviamente chi è esperto mi batteva ma mi difendevo non male e mi piaceva ma c'è un lato degli scacchi che non mi piaceva che è molto aggressiva come contenuta le regole tutto quanto ma perdere fa star male bisogna vincere una cosa mente contro mente che non mi piace mi piace molto di più quando le menti si parlano per arrivare insieme da qualche parte credo che sia stata una delle cose che mi ha fatto abbandonare abbandonare gli scacchi questa competitività sfrenata che viene naturale perché noi siamo tutti esseri competitivi no quindi quando ci si mette in una competizione poi si pensa che io mi ha insegnato a giocare se anche mio papà ero bambino e giocavamo spesso ovviamente vinceva anche lui diciamo poi a un certo punto ho cominciato a fare delle partite vere e poi mi sono accorto non ero molto grande che vincevo e non ci riuscivo lo facevo perdere apposta perché mi dava fastidio battere mio padre a scacchi lo facevi vincere quindi lo lasciavi vincere lasciavo vincere sì sì che mi sembrava brutto perché siamo su questo pianeta non per farci del mare l'un l'altro interessante riflessione sui scacchi vero lo trovo molto aggressivo ora che che ci sto giocando di più ti piace giocare guarda ho fatto una settimana per provare a migliorare a scacchi e partendo abbastanza da zero ho intervistato tre campioni della campionessa italiana e due i campi italiani in carica e l'ex campione italiano e quindi giocando li hai battuti scacchi però non sei arrivato a battere scacchi no 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 assolutamente nel senso semplicemente mi hanno spiegato un po di cose però mi ha preso molto ecco e quindi adesso mi arrabbio in continuazione ecco strepitoso poi anche credibile che no 64 caselline decine di pezzi è un paio di cose ancora che avevo in testa che volevo una tua opinione poi ti lascio andare carlo ma tutto il mondo diciamo tech non solo sta giocando con questo lei ai cia gpt ai presente no tutto questo questo mondo qua e ieri a un certo punto ho iniziato a smanettarci un po e sai che hai dei prompt che puoi mettere dentro e gli dai delle degli input e ho cominciato a usare un prompt dove gli dico guarda io adesso ti dirò una mia opinione o un mio progetto voglio che tu lo critichi facendo finta di essere questa persona persona uguale e gli mettono non so Elon Musk oppure non so Bill Gates o non so posso mettere una persona e lui a quel punto gli metto il tipo di progetto immaginati c'ho un'idea di questa nuova startup come criticamela come se fosse appunto Elon Musk e lui mi dà dei funzionati sono cose interessanti che escono sì devo dire che andando più specifici escono tutta una serie di osservazioni magari a un modello di business su cui non avevo pensato e ho pensato wow cioè effettivamente questa roba a prescindere da tutti i problemi che ha il fatto che è ancora superficiale da tanti punti di vista però mi ha fatto riflettere quindi stavo pensando rispetto alle ricerche che vengono portate avanti e a tutto tutto questo mondo infinito insomma della comprensione di quello che c'è là fuori tu pensi che si arriva a un punto tu hai veramente un sistemone che ti aiuta a vedere quello che oggi uno non riesce a comprendere la vedi diciamo questo lo vedi questo supporto che può arrivare o viene usato non viene usato che situazione vedi su questo fronte ma sono particolata sì penso che può può dare se la domanda e può arrivare un momento in cui questa cosa diventa utile non lo so ma mi aspetto di sì perché come dire intelligenza artificiale si è rivelata estremamente utile in tante cose diciamo anche anche che non ci aspettavo e si è rivelata capace di fare cose che non ci immaginavamo non so l'arrivo il primo motoro di ricerca ha lasciato tutti sbalorditi no com'è possibile che che siano così efficienti io riesco sempre trovare quello che cerco in questa immensità e così via quindi che risulti utile per adesso nel mondo della scienza si usano si usa potenza numerica di calcolo più che altro per fare simulazioni per fare per vedere simulazioni numeriche di situazioni fisiche quindi non la cosa che dici tu però imparare capire vuol dire mettere insieme di idee diverse quindi se c'è un software capace di andare a pescare idee vedere che sono collegate proporle non vedo perché non potrebbe diventare utile a un certo punto d'altra parte senza senza mettere nessuna limitazione all'intelligenza artificiale perché non vedo perché l'intelligenza artificiale non dovrebbe in linea di principio fare la stessa cosa che fa un cervello perché in fondo se le fa un cervello lo può fare anche l'intelligenza artificiale non vedo perché ci dovrebbe essere una differenza però in pratica io non dimenticherei anche che l'intelligenza artificiale è stata una lunga serie di delusioni da quando è nata e le promesse le cose che sembravano possibili non si sono verificate tante di quelle volte che è difficile fare fare lo ti ricordi la e 5 il piano giapponese quando il giappone era ricchissimo ha fatto un enorme investimento al giappone per l'intelligenza artificiale per arrivare a cinque obiettivi e di cui uno era al poter dialogare un'interfaccia che potesse dialogare in linguaggio naturale un altro era sistemi esperti che impiazzassero medici avvocati e tutto un altro era un micro c'era una serie ma anche come dire io sono cresciuto pensando che da grande aveva avuto un robottino in casa che gli dico scusa mi fai un caffè scendi giù prendi la posta mi compri mi compri un gelato al cioccolato e niente di questo si è verificato diciamo anche le cose che puliscono per terra sono primitive rispetto a quello che ci aspettava quindi diciamo non dimentichiamoci che l'intelligenza artificiale ci ha stupito varie volte ma ci ha deluso tantissime volte la tecnologia ci ha deluso tante volte io dovevo avere un'automobile che vola e andare in giro per per le stelle con la mia astronale quando ero bambino non è successo quindi secondo me bisogna essere aperti ma anche non sperare troppo nel nella nella tecnologia questa è la mia non farsi né cascare nella non ci credo non succederà né casca oddio cambia il mondo pochino alla volta si hanno strumenti in più interessante a proprio degli strumenti in più tra le mie varie challenge settimanali a non c'era punto ho deciso di mettermi a giocare in realtà virtuale a un videogame di ping pong io di mestiere giocava ping pong da ragazzino ed è un videogame dove c'è un milione di giocatori in tutto il mondo e ho detto va bene provo a vedere a che livello riesco a diventare ok questa era la la cd una settimana ho giocato non tutto il giorno giocavo un'oretta al giorno con questo videogame molto scettico perché immagina io ero numero 5 di taglia di ping pong quindi la mia valutazione estremamente dettagliata ecco non è che mi dai ma un gioco e io penso a che bello e similare no ci facciamo una partita ping pong mi stracci volentieri no no e ti do tutti i tips and tricks poi per vincere esatto esatto così poi quando torno a perimetra insurso con i giovani sei perfetti di occo le tecniche di base con cui però la cosa che mi ha colpito è che dopo un giorno che ero lì a giocare un giorno e mezzo tu hai un tavolo davanti ed era talmente reale che io ad un certo punto ho messo le mani sul tavolo per appoggiarmi e sono caduto di faccia cioè questo era per darti l'idea di quanto è reale il gioco è 85 per cento vero cioè tu non distingui se stai giocando per nella realtà è un livello incredibile e la mia stima è che nel giro di due anni tu metti un visore non sai capire se sei su un tavolo vero o su un tavolo finto quindi il livello incredibile e questo mi ha fatto molto riflettere ho detto caspita qua siamo in un universo simulato per davvero cioè mi ha veramente colpito quanto sia molto più avanzato anche questo mondo rispetto a quello che era la mia percezione io ero estremamente critico ho sempre pensato ah sì realtà virtuale ce ne fa tra vent'anni non so ne riparliamo e quindi a volte mi colpisce insomma quindi pensi che sta andando più veloce di quella che a un certo momento immaginari alcune cose sì altre magari meno insomma e anche altri settori mio amico che fa il nuotatore diceva sì però realtà virtuale per uno che nuota come fai a simularla è probabilmente più difficile però alcuni magari alcune attività sono e lo stesso immagino per lei ai avrai magari alcuni settori dove è molto più facile come gli scacchi che sono stati padroneggiati dalle ai e altri invece sono molto più complesse però sono lo trovo affascinante senti carlo e quindi che cosa nella nostra prossima chiacchierata cosa ti aspetti che sarà successo in tutto questo mondo c'è qualche qualche scoperta o cambiamento o anche a livello tecnologico che se avviene quello possiamo fare un salto a livello proprio di comprensione dell'universo diverso rispetto a dove siamo oggi c'è qualche cosa che appena se viene sciolto quel nodo lì si aprono mille comprensioni in più non saprei rispondere non credo un paio di considerazioni uno che la scienza e sapere fondamentale vanno lenti sono sempre andati lenti e stanno andando lenti anche adesso quando c'è stato un paio d'anni in cui mi si chiedeva mi ricordo era stato chiesto all'ultimo dell'anno la radio quale cosa ti aspetti come grande passo scientifico durante l'anno e io avevo detto ma sono 30 anni che il sogno di vedere la rivelazione delle onde gravitazionali e spero che arriverà ed è arrivata tre mesi dopo quindi c'è una cosa che più mi aspettavo ed è stato molto importante dal punto di vista della scienza che stavo profonda conferma della generale e ci ha aperto delle una finestra nuova per guardare il mondo le cose stanno cambiando però non vedo adesso una cosa determinante che che possa cambiare tutto secondo me scienza fondamentale siamo in un momento in qualche maniera di consolida consolidare sione perché diciamo quella fisica che mi ha affascinato da ragazzo le teorie di Einstein meccanica quantistica che quando io avevo vent'anni erano abbastanza recenti perché visto adesso per un sacco di tempo in fondo sono state l'apertura di questo grande periodo di rivoluzione che stiamo chiudendo più che che continuando secondo me si tratta di mettere insieme tutti questi pezzi che sono stati trovati nel durante il ventesimo il ventesimo secolo poi ovviamente non lo so perché il futuro ci stupisce sempre tutti e succede sempre quello che non ci aspettiamo tra parentesi carlo sai che settimana scorso ho visto per la prima volta di arrival che è un film di fantascienza vecchio ma veramente ben fatto e mi è molto piaciuto perché è tutto basato sull'importanza del linguaggio che mi ha quello che si muovono davanti al vetro e così non so perché mi ha mai avuto in mente ma mi ha colpito perché ho detto vedi il solito il film è un fisico la psicologa di con la psicologa se 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 e quindi univa vari aspetti che mai ma in comunicazione cosa vuol dire comunicare con un'altra specie molto bello il tempo il tempo modi diversi di vedere il tempo tanti spunti interessanti buchi bianchi e carlo bocca al lupo per tutto ci aggiorniamo la prossima io me lo leggerò perché ecco se mi hai detto che non sono non è proprio parlare dei lavori perfetto insomma anche per uno leggono tutti è super leggibile diciamo si legge mezz'ora ed è un libro di viaggio grazie carlo alla prossima ciao ciao grazie mille grazie a te